ciao e bentornati sul mio canale se l'ultima volta vi ho parlato di un gioco che trattava praticamente di una gara ad arrivare primi al convoglio che ci avrebbe portato alla sopravvivenza quest'oggi invece vi parlo di un gioco che simula completamente una gara a formula 1 si tratta di formula board game ed è un prototipo che mi è stato inviato per appunto farvi vedere come funziona prima che il gioco vero proprio esca piccolo disclaimer quindi i componenti sono ovviamente in fase di prototipo per cui saranno molto migliori una volta che il gioco uscirà effettivamente e anche alcune regole potrebbero essere ancora modificate rispetto al gioco una volta uscito se siete pronti andiamo subito a vedere il setup come prima cosa deve essere messa sul tavolo la plancia di gioco vengono poi mescolati tutti i mazzi di carte azione imprevisto crash e bot car ogni giocatore poi prende un set di 12 carte marcia così composto una carta marcia per tipo dal numero 1 al numero 8 tre marce clone dall'1 al 3 e una carta clona marcia in evidenza in alcuni circuiti poi come ad esempio monte carlo ci sono alcune regole particolari come indicato in cima al tabellone a monte carlo non viene utilizzata la carta marcia numero 8 che viene quindi rimessa nella scatola oltre alle carte marcia ogni giocatore ottiene anche quattro carte azione tre segnalini istinto tre segnalini freno tre segnalini cambio un segnalino rs 50 per cento e uno 100 per cento un segnalino mescola gomma un segnalino in legno che qui non è in legno ma è perché il gioco appunto è solo un prototipo e due coppie identiche dello stesso segnalino turno scelto casualmente quindi se a un giocatore gli viene assegnato appunto il segnalino 2 bisogna dargli entrambe le coppie ora si può passare alle qualifiche delle bot car come prima cosa ovviamente bisogna aprire l'applicazione android e cliccare su qualifiche bot car a questo punto basterà premere questo pulsante premi qui per la griglia bot car per capire esattamente la posizione delle varie bot car ecco fatto 3 5 2 4 e 1 ora basta andare a prendere i 5 segnalini bot car e abbinarle quindi ai tempi sulla tabella appunto qualifiche bot car in base alla posizione indicata dall'app ecco fatto la rossa in prima posizione poi c'è l'arancione poi la blu la gialla quarta e come indicato dall'app la quinta è la grigia ora premendo il tasto home potremo tornare indietro e fare la qualifiche dei giocatori per fare ciò basta cliccare sulla pista che stiamo percorrendo in questo caso monaco si aprirà questa schermata e dovremo semplicemente cliccare su qualifiche reset ogni giocatore ora avrà due tentativi a disposizione per qualificarsi per fare ciò dovrà primere prima su start poi sul settore 1 settore 2 settore 3 e poi sulla bandiera finish tutte con lo stesso dito questa si tratta di una vera e propria prova di abilità quindi se un giocatore si sbaglia appunto a schiacciare oppure muove lo schermo invece di schiacciare sul giusto pulsante sono praticamente a fare i suoi e il tempo ne risentirà 1 10 57 è il mio primo tempo per salvarlo basta cliccare su tempi e verrà salvato in basso qui come ho detto prima ogni giocatore ha due possibilità per provare la seconda volta rifacciamo su qualifiche reset e ripetiamo la procedura ecco fatto 10 e 97 anche in questo caso facciamo tempi per salvare però il miglior tempo mio è 1 10 e 57 l'app verrà quindi passata a un altro giocatore che a sua volta proverà a qualificarsi abbiamo quindi i 4 tempi dei due giocatori ognuno terrà il migliore vediamo come funziona per la guida di partenza come abbiamo visto ogni giocatore ha due segnali di turno identici uno lo tiene davanti a sé per ricordarsi di essere appunto giocatore 1 il secondo invece verrà messo sulla tabella tempi qualifica bot car in base al tempo che ha avuto dall'app il giocatore 1 ha avuto 1 10 57 quindi lo metterà tra il secondo e il terzo tempo perché appunto il secondo tempo è 1 10 55 e il terzo è 1 10 60 il giocatore 2 invece ha fatto 1 10 e 85 quindi lo dovrà mettere dopo il tempo della quarta bot car 1 10 70 ovviamente se un giocatore avesse fatto 1 10 58 quindi un centesimo in più rispetto al giocatore 1 l'avrebbe messa fra il giocatore 1 e la terza bot car in caso di pariggio fra due giocatori si fa una seconda qualifica con le stesse modalità ma con solo un tentativo che va a spezzare il pareggio in caso di ulteriore parità viene messo prima quello che ha il token turno più basso in caso invece di parità con una bot car vince sempre il giocatore ora abbiamo la griglia di partenza adesso si passa all'asta per comprare il team che si desidera come abbiamo visto durante il setup ogni giocatore ha una dotazione iniziale di 9 segnalini fra istinto cambio e freno ora ogni giocatore utilizzerà questi segnalini per fare un'asta per acquistare il team con cui gareggerà partendo quindi dal team della bot car col tempo più basso si procede a fare un'asta ogni bot car in base alla posizione di partenza ha un costo minimo la quinta 1 la quarta 2 la terza 3 la seconda 4 e la prima 5 questo costo viene pagato tramite appunto i segnalini che vi ho appena mostrato ogni giocatore quindi sceglierà segretamente il numero e il tipo di segnalini che terrà in mano per pagare il team di cui si sta facendo l'asta se un giocatore non vuole partecipare metterà in mano zero segnalini in un caso come questo il giocatore 1 punta due segnalini il giocatore 2 uno solo quindi sarà il giocatore 1 a vincere la scuderia grigia prenderà quindi il segnalino macchina principale corrispondente quindi toglierà dalla griglia di partenza il suo segnalino turno per sostituirlo con la macchina appena acquistata prenderà poi la plancia corrispondente al team scelto e poi metterà i segnalini utilizzati sul simbolo della propria scuderia nella sezione box si passa poi alla seconda bot car che costerà 2 come abbiamo appena detto e si procederà in questo modo finché tutti i giocatori non hanno ottenuto il loro team ovviamente se un giocatore ha già un team non può partecipare più all'asta e se un team non viene scelto perché nessuno lo vuole viene messo da parte si proseguirà con l'asta normalmente quando si è terminato con quella in prima posizione si torna dalla bot car appunto che non è stata segnata più indietro andando nuovamente a fare l'asta finché tutti comunque non hanno ottenuto un team quando tutti i giocatori hanno scelto la loro scuderia tutte le macchine vengono messe sulla griglia di partenza da notare che in questa fase le altre bot car neutrali non vengono tolte ma rimangono comunque in gara ora si passa alla selezione del meteo che ci sarà durante la gara i giocatori ora scegliono di comune accordo se il meteo sarà fisso o variabile per giocatori alle prime armi il meteo fisso è più semplice basta tirare il dado da 8 e a seconda del risultato posizionare il segnalino meteo sulla giusta posizione in questo caso 5 sole gli altri risultati sono 1 meteo pioggia incessante 8 meteo pioggia lieve in ogni caso comunque col meteo fisso il meteo rimarrà così per tutta la partita anche in caso di meteo variabile si tira il dado e si sceglie appunto il meteo che esce però a differenza del meteo fisso cambierà durante la partita come poi indicato sia sulla tabella del round sia sotto la tabella meteo bisognerà tirare il dado da 8 anche all'inizio del round 5 per avere quindi il meteo che partirà dal round numero 7 e fare la stessa cosa al round 10 per avere il meteo che partirà al round 13 non è detto che il meteo cambi di volta in volta però le possibilità ci sono ora che il meteo è stato deciso tutti i giocatori devono fare il setup dell'auto principale per prima cosa i giocatori dovranno scegliere la mescola delle gomme che utilizzeranno all'inizio della gara in ogni caso il segnalino viene posizionato sul numero 1 del tracciato conta round delle durate delle gomme poi appunto viene scelta la mescola poi in caso di metodo solleggiato si può scegliere fra morbide medie o dure in caso di scelta di mescola morbida il giocatore otterrà 4 token curva come indicato dalle caselle colorate in rosso la mescola morbida può durare da un minimo di 4 round a un massimo di 6 se il giocatore termina tutti i token curva prima del quarto round allora sarà obbligato a fermarsi alla fine del quarto round per fare pit stop se invece il giocatore rimarrà senza token curva all'interno del quinto round sarà alla fine di quel round appunto ad andare al pit stop in ogni caso alla fine del sesto round sarà obbligato a fermarsi anche se ancora dei token curva in riserva in caso di mescola media invece il giocatore otterrà solo tre con token curva però le gomme mescola media dureranno un minimo di 6 e un massimo di 8 round anche in questo caso se il giocatore finisce i token curva prima del termine del sesto round sarà obbligato alla fine del sesto round a fermarsi per cambiare le gomme se invece token curva finiscono proprio al settimo round sarà alla fine di quel round a fermarsi per il pit stop e allo stesso modo delle gomme a mescola morbida se alla fine dell'ottavo round avrà ancora dei token curva sarà comunque obbligato a fermarsi per cambiare le gomme con le gomme a mescolatura abbiamo soltanto due segnalini curva però queste dureranno un minimo di 9 e un massimo di 11 round le modalità di obbligo di cambio delle gomme rimangono uguali alle gomme medie e morbide quindi se terminiamo i segnalini curva prima del nono round dobbiamo fermarci alla fine del nono round se li finiamo al decimo round dobbiamo fermarci al decimo round e in ogni caso dovremo fermarci all'undicesimo anche se abbiamo ancora dei token curva se invece il meteo indica pioggia lieve saremo obbligati a montare le gomme intermedie queste durano fino al dodicesimo round e ci permettono di ottenere un token curva ma a differenza delle gomme per tempo solleggiato anche se useremo il nostro token curva prima del dodicesimo round non saremo obbligati a fermarci prima del dodicesimo round stesso con meteo pioggia incessante invece saremo obbligati a utilizzare le gomme da pioggia che durano 14 round ma non ci forniscono alcune token curva dopo che tutti i giocatori hanno scelto la mescola da utilizzare e ottenuto quindi segnalini curva che gli spettano bisogna completare il setup della plancia del giocatore vengono quindi posizionati sugli appoggi di spazi i token freno istinto cambio e rs poi ogni giocatore può scartare tre carte azione con lo stesso simbolo in basso a destra per riprendere dai box uno dei token utilizzati in fase d'asta e rimetterlo appunto sulla propria plancia infine ogni giocatore può scegliere fino a due token fra quelli disponibili e scambiarli con altrettanti token presenti sui box sul proprio segnalino scuderia viene poi posizionato il token giro sullo start il token round sul numero 1 sulla tabella del round e vengono posizionati i due token safety car e il token bandiera gialla nei box ora siamo pronti quindi alla partenza vera e propria della gara per iniziare la gara è necessario ancora una volta utilizzare l'app del gioco basta cliccare su movimento partenza auto principali e a turno i giocatori dovranno fare una prova di abilità per vedere quanto saranno reattivi in partenza come appunto una vera formula 1 il giocatore che ha in mano il telefono quindi dovrà cliccare sul semaforo e poi tenere schiacciato il tasto frizione una volta scenderanno le luci del semaforo e quando si spegneranno il giocatore con tempismo con lo stesso dito che aveva sulla frizione dovrà schiacciare sulla bandiera scacchi vediamo un esempio ecco qua vediamo quanto tempo faccio 29 centesimi ora il giocatore confronterà esultato tenuto in partenza sia solo una possibilità con la tabella dei movimenti di partenza da 0 a 30 centesimi muove di tre caselle il giocatore dovrà quindi prendere la marcia che corrisponde al numero di caselle che percorre in partenza e posizionarla sulla casella marcia in evidenza sulla propria plancia a questo punto si premerà il tasto premere qui per iniziare e si passerà il telefono ad un altro giocatore che ripeterà l'operazione quando tutti hanno fatto si passa quindi a vedere il movimento delle bot car in partenza per fare ciò basta tornare indietro schiacciando il tasto home si preme quindi il tasto movimento partenza bot car e il tasto di nuovo movimento bot car per vedere appunto di quante caselle si muoveranno le bot car ora in ordine di posizione si muoveranno le automobili del giusto ammontare di caselle l'auto rossa fa 2 ecco qua poi l'arancione 1 la mia auto principale in base alla qualifica fatta si muove di 3 quindi 1 2 3 la blu si muove di 1 la gialla si muove di 2 l'altro giocatore avrà fatto quindi 1 2 o 3 caselle in base al tempismo facciamo finta 2 anche perché di più non può e infine la grigia di 3 1 2 e 3 e la partenza è stata fatta ora vedremo come ci si muove round per round durante la partita prima del primo round di gioco bisogna scegliere se giocare in modalità principiante standard o avanzato in modalità principiante non c'è alcun limite di tempo per giocare le carte marcia mentre modalità standard avremo 180 secondi per posizionarle e modalità avanzata 90 secondi al posto della crescita viene utilizzata un'altra volta l'app che in base alla difficoltà scelta ci presenterà un timer da 180 secondi o 90 in ogni caso comunque per farlo partire basta schiacciare timer gioco standard e per farlo fermare basta schiacciare il tasto reset indipendentemente dalla difficoltà scelta ogni round è diviso in quattro turni e quindi ogni giocatore dovrà giocare quattro carte marcia le carte marcia vengono giocate coperte davanti alla propria plancia per scegliere la marcia da utilizzare bisogna seguire poche semplici regole innanzitutto in caso di meteo sole si può aumentare la marcia che si sta utilizzando di massimo 3 e diminuirla di massimo 2 con meteo pioggia qualsiasi essa sia si può invece aumentare al massimo di 2 e diminuire comunque sempre di 2 un'altra cosa da tenere presente è che bisogna sempre cercare di massimizzare il proprio movimento non si può quindi rallentare in retta se questo non comporta incidenti ovvero la pesca di carte crash è imprevisto a meno che il giocatore non voglia provare a rischiare come vedremo dopo quindi con meteo sole ad esempio potremo giocare la carta marcia 6 dopo la carta marcia 3 se poi invece vorremmo rallentare sapendo che abbiamo giocato qui la marcia 6 potremo al massimo giocare la marcia 4 ci sono poi alcune marce clone la carta clona marcia in evidenza va quindi a copiare la stessa marcia indicata qui quindi in questo caso sarà una terza le carte marcia clone 1 2 3 invece vanno a clonare le carte già posizionate quindi la carta marcia clone se posizionata qui andrà a clonare quella precedente la carta marcia clone 2 invece due precedenti quindi questa qui e la carta marcia clone 3 3 precedenti quindi questa qui una volta che tutti i giocatori avranno giocato la propria carta marcia scopriranno contemporaneamente la prima per prima cosa uno dei giocatori scoprirà la prima carta bot car e la metterà nella sezione carta bot car in uso questa carta va a indicare esattamente turno per turno i movimenti delle varie bot car presenti sulla pista in base al loro colore ora si può cominciare a muovere tutte le automobili partendo da quella in prima posizione sempre la macchina bot car rossa si muove di 4 1 2 3 4 io ho messo una sesta quindi nuovo di 6 1 2 3 4 5 6 l'arancione si muove di 4 1 2 3 4 poi parte la blu 7 1 2 3 4 5 6 7 e ora la gialla 1 2 3 4 5 poi si muove il giocatore arancione che può aver giocato ad esempio una quinta 1 2 3 4 5 e infine la bot car grigia 1 2 3 4 5 6 7 si passa ora quindi al secondo turno tutti scopriranno le proprie carte e poi si muoverà sempre in ordine in base appunto alla posizione delle varie automobili quando i 4 turni sono stati giocati il round finisce ogni giocatore prende l'ultima carta marcia utilizzata e la mette al posto della marcia in evidenza prende le altre carte marcia in mano che saranno quindi disponibile per il prossimo round assieme a quelle che gli erano rimaste prima ora che è finito il round si aumenta di 1 il consumo delle gomme e infine si muove il segnalino round sul tracciato appunto dei round ora si è pronti per il secondo round che viene giocato allo stesso modo di quello che abbiamo appena visto ora che abbiamo visto come funziona un round di gioco è bene capire come ci si deve muovere bene sulla pista innanzitutto vediamo le due traiettorie questi pallini con il numero verde su sfondo bianco collegati da una riga verde è la traiettoria ideale invece i puntini neri sono la corsia fuori traiettoria la differenza principale è che in caso di parità fra due macchine partirà sempre prima quella sulla traiettoria ideale i giocatori infatti dovranno muoversi sempre sulla traiettoria ideale a meno che appunto non vogliano sorpassare allora potranno andare sulla corsia fuori traiettoria per passare da una corsia all'altra bisogna che si soddisfi almeno una di queste condizioni c'è una freccia bianca che indica il cambio di traiettoria oppure bisogna trovarsi in un tratto che comincia con questo simboletto perciò per tutta la retta qui ad esempio possiamo tranquillamente cambiare traiettoria questo simbolo invece sta a indicare che il tratto in cui si può cambiare corsia a volontà finisce un altro modo per cambiare traiettoria poi come vedremo meglio dopo è giocare un token istinto ci sono poi infine alcune carte azione che permettono il sorpasso come ad esempio l'azione attacco staccata ritardata o l'attacco scia nello specifico queste carte azione possono essere giocate solo in determinati punti della pista l'attacco scia ad esempio si può giocare solo in un tratto scia delimitato da una linea arancione questo è l'inizio e che termina con una linea tracceggiata arancione per quanto invece riguarda l'attacco staccata ritardata si può giocare solo appunto in una zona delimitata da una riga azzurra che determina l'inizio della staccata ritardata e una linea tratteggiata azzurra che ne determina la fine quando poi un giocatore con l'auto principale attraversa questa zona con scritto appunto pesca cartazione potrà pescare una cartazione dal mazzo potrà comunque farlo solo se ha meno di quattro carte in mano infatti il limite massimo di cartazione in mano è appunto 4 da notare che la cartazione non viene pescata quando a oltrepassare questo simbolo è una bot car quando poi un'auto si trova nel tratto drs ovvero ha oltrepassato questo simbolo ma non ha ancora oltrepassato questo che indica drs off significa che può appunto utilizzare il drs se l'auto principale di un giocatore oltrepassa questo segnale ovvero il segnale di ricarica rs se ha dei segnalini rs scarichi sulla propria plancia li può riattivare entrambi vedremo poi l'utilizzo dei segnalini rs l'ultima cosa da dire per quanto riguarda la pista sono le curve l'inizio di una curva è segnalato da una riga continua gialla mentre alla fine da una linea tratteggiata gialla i segnali vicino alle curve indicano a che marcia bisogna affrontare appunto la curva in questo caso in terza se il meteo è solleggiato in seconda invece se c'è pioggia incessante o lieve che sia l'auto principale di un giocatore che entra in una curva con una carta marcia uguale a quanto indicato dal segnale non subisce alcuna penalità se invece il giocatore utilizza una carta marcia di uno superiore rispetto a quanto indicato dopo aver terminato il movimento deve pescare una carta imprevisto e applicarne gli effetti un giocatore invece che entra in una curva con una marcia di due superiore rispetto a quanto indicato dopo aver terminato il movimento deve pescare una carta crash e applicarne ovviamente gli effetti se invece la marcia è di tre superiori rispetto al segnale anziché muoversi di tutto il movimento dovrà fermarsi sulla casella che è indicata col simbolo dello stop a questo punto il giocatore dovrà poi pescare una carta crash e infine dovrà cambiare la carta marcia che sta utilizzando col limite indicato dal segnale della curva in cui si trova e poi volendo può cambiare le carte successive sempre rispettando il limite di aumento e diminuzione della marcia a seconda del meteo le regole di entrata in curva sono identiche con qualsiasi condizione meteorologica invece le cose cambiano quando si deve uscire dalla curva in caso di meteo sole o pioggia lieve si può uscire dalla curva con una marcia superiore di 1 rispetto a quanto indicato quindi 4 in caso di sole e 3 in caso di pioggia senza incorrere ad alcuna penalità se invece un giocatore per errore o scelta comunque azzardata perché vuole rischiare esce da una curva con una marcia di 2 superiore rispetto a quanto indicato quando si tratta di pioggia lieve quindi 4 invece di 2 o sole 5 invece di 3 termina il proprio movimento e poi pesca una carta imprevisto applicandone gli effetti nel caso in cui si esca con una marcia di 3 invece superiore rispetto a quanto indicato in caso di sole l'auto fa il suo normale movimento e poi pesca una carta crash applicandone gli effetti in caso invece di pioggia incessante non vi è alcuna penalità se si esce con la marcia indicata dalla curva se invece si esce con una carta marcia di 1 superiore rispetto a quanto indicato dal segnale si muove l'auto e poi si pesca una carta imprevisto e se ne applicano gli effetti se invece si esce da una curva con una marcia di 2 punti superiore rispetto a quanto indicato in caso di pioggia incessante si fa il normale movimento e poi si pesca una carta crash e si applicano gli effetti ultima notazione per quanto riguarda le curve affrontate dalle auto principali gli effetti dell'entrata e dell'uscita sono cumulativi e vengono affrontati in ordine quindi se io voglio affrontare l'entrata in curva in quinta marcia essendo che io con lo stesso movimento entro ed esco dalla curva pescherò una carta crash in entrata perché la affronto con un più 2 rispetto a quanto indicato e pescherò una carta imprevisto alla fine perché appunto la affronto con un più 2 rispetto sempre a quanto indicato in uscita vediamo ora come vengono affrontate le curve dalle bot car la prima cosa da dire è che una bot car non può entrare ed uscire dalla curva nello stesso turno quindi se come in questo caso il movimento indicato è superiore alla lunghezza della curva la bot car si fermerà invece al limite della curva muovendosi in questo caso soltanto di tre caselle c'è anche da dire che il movimento delle bot car è sempre massimizzato a arrivare il più lontano possibile quindi in questo caso l'auto farà invece così arrivando al pari dell'auto grigia se una bot car invece deve uscire dalla curva anziché utilizzare quanto indicato dalla sua carta turno si muoverà di uno in più rispetto a quanto indicato dal segnale della curva in questo caso 4 se soleggiato 3 se piove un token istinto quando utilizzato permette di cambiare corsia o giocatore anche se normalmente non sarebbe possibile farlo mettiamo ad esempio io abbia giocato questa marcia 4 qui come vedete non è possibile cambiare corsia per passare quindi utilizzo un token istinto e potrò quindi muovermi in questo modo 1 2 3 e 4 il token istinto una volta utilizzato viene posizionato sopra il box nella relativa casella del team del giocatore è possibile comunque utilizzare anche più di un token istinto per turno se necessario vediamo ora l'utilizzo del token cambio poniamo un esempio di questo tipo la bot car arancione ha già mosso e tocca a me io ho messo una marcia sesta quindi mi muovo di 6 1 2 3 4 5 6 durante il turno successivo potrei scalare soltanto di 2 come da regolamento quindi rischiando di pescare una carta imprevisto poi in entrata in curva quando toccherà di nuovo a me potrò utilizzare un token cambio e quindi giustificare il fatto di aver giocato una marcia di 3 inferiore anziché di 2 rispetto a quanto è consentito normalmente il mio movimento sarà quindi di 3 e non rischierò nulla in entrata in curva è possibile anche giocare più di un token cambio per turno scalando quindi di una marcia in più per ogni token cambio utilizzato tutti i token cambio non vengono messi nella zona relativa alla scuderia del giocatore nella zona dei box vediamo ora come funziona il token freno mettiamo che queste due macchine abbiano già mosso e quindi mi trovi nella spiacevole situazione di essere chiuso a tappo e ho giocato una marcia 3 sarei quindi obbligato a tamponare la macchina davanti vedremo dopo come si gestiscono i danni ora vediamo invece come si gestisce una frenata utilizzando il mio token freno posso diminuire di 1 i movimenti che sono obbligato a fare quindi muovermi soltanto di 2 la marcia rimane la stessa quindi non dovrò cambiare le carte successive da notare che i token freno non possono essere utilizzati con pioggia incessante che quindi vanno presi e girati sotto sopra anche token freno vengono scartati nella sezione dei box relativa alla scuderia del giocatore che l'ha utilizzato vediamo invece come funziona ora l'RS quando si decide di utilizzarlo basta girare sotto sopra il relativo segnalino e muoversi di uno spazio in più rispetto al movimento se abbiamo girato quello al 50 per cento di due spazi in più se siamo usato invece quello da 100 per cento in ogni caso comunque è possibile utilizzare un solo token rs per turno tutti i segnalini e rs vengono ricaricati quando si oltrepassa l'apposito segnale di ricarica sul tracciato vediamo ora come si utilizza il token curva se ne può utilizzare solo uno per turno e viene usato quando si vuole entrare in una curva con una marcia di uno superiore rispetto a quanto consentito senza rischiare niente poniamo quindi il caso che io abbia utilizzato la marcia 4 per entrare in curva se prenderò e scarterò un segnalino curva potrò farlo senza pescare alcuna carta imprevisto come invece sarebbe da regolamento vediamo ora l'utilizzo delle carte azioni ogni giocatore può giocare soltanto una carta azione per turno ogni cartazione può essere utilizzata in tre modi ogni volta che vengono giocate le carte azioni bisogna decidere quale di questi tre modi vogliamo utilizzare la prima cosa che possiamo fare è utilizzare una cartazione per aggiungere un movimento a nostra bot car pari a quanto scritto qui sotto in questo caso giocando questa carta potremo muovere la nostra bot car di uno in più rispetto a quanto indicato dalla sua carta ogni cartazione ha poi nell'angolo in basso a destra un simbolo esistono quattro simboli diversi e scartare tre carte dello stesso simbolo è secondo utilizzo delle carte azioni facendo così infatti potremmo riguadagnare uno dei segnalini istinto freno o cambio che abbiamo utilizzato precedentemente e riposizionarlo così sulla nostra plancia l'ultimo utilizzo è quello indicato al centro della carta ogni carta attacco ha la sua controparte difesa quando un giocatore prova ad attaccare il giocatore che subisce l'attacco può giocare la relativa carta difesa se così riesce a fare la carta attaccante viene annullata e scartata senza fare alcun effetto se invece il giocatore non vuole o non può giocare una carta difesa allora si attiva la carta attacco e il giocatore attaccante guadagna il bonus indicato dalla carta stessa tutte le carte azione utilizzate quindi scartate vengono rimesse sotto al proprio mazzo innanzitutto è bene sapere che quando una botcar si muove e si trova chiusa come in questo caso non va a sbattere si ferma semplicemente nel primo spazio utile dietro alle automobili che stanno facendo tappo se durante la partita viene estratta una carta crash o imprevisto per qualsiasi motivo che indichi l'entrata in gioco del token bandiera gialla allora bisogna comportarsi in questo modo innanzitutto si prende appunto il token bandiera gialla e lo si mette sul turno 1 nell'apposita segnaturni dopodiché si posiziona la carta imprevisto crash che l'ha fatta entrare in gioco in modo da avere sempre in vista il numero di turni che la bandiera gialla rimane in gioco dopo aver finito il turno regolarmente parte quindi il primo turno di bandiera gialla in gioco ciò implica sostanzialmente due cose innanzitutto nessuna macchina può sorpassare e non possono essere giocati né segnalini di alcun tipo né carte azione come seconda cosa le normali regole di movimento di entrata uscita in curva si applicano normalmente ma bisogna tenere presente che non è possibile fare collisioni fra due vetture se in questo caso quindi avessi giocato una sesta e dovessi muovermi non potendo sorpassare e non potendo fare incidenti con altre vetture semplicemente mi muoverei di uno spazio per rimanere dietro all'auto appena avanti a me la stessa cosa vale per le bot car essendoci un movimento di 4 si muoverà soltanto di 2 per appunto non andare a sorpassare alcuna vettura finito il turno la bandiera gialla prosegue alla fine del turno indicato sulla carta la carta viene scartata e anche la bandiera gialla viene rimessa al suo posto e la gara continua normalmente molto similmente se viene pescata una carta che indica l'entrata in gioco del safety car bisogna mettere uno dei due segnalini safety car sul turno uno sull'apposito contaturni anche in questo caso la carta viene tenuta in vista per sapere quanti turni deve rimanere in gioco dopodiché il secondo senino bot car va messo nella casella appena davanti alla macchina che è in testa alla corsa da ora in poi e finché la safety car rimane in gioco nessuna vettura può sorpassare in alcun modo la safety car e allo stesso modo i giocatori non possono effettuare i sorpassi fra loro anche in questo caso non è possibile più giocare né token né carte azione finché la safety car rimane in gioco per prima cosa durante il turno la safety car viene mossa di quattro caselle in avanti dopodiché tutti i giocatori riprendono in mano le carte marcia che non sono ancora state scoperte per questo turno e mettono l'ultima carta marcia giocata nella casella marcia in evidenza sulla propria plancia andando quindi a prendere in mano e a sostituire quella che avevano sulla loro plancia in precedenza a questo punto ogni giocatore gioca le carte marcia che rimanevano per quel turno da giocare tenendo presente però che appunto la safety car si muove sempre soltanto di quattro spazi anche in questo caso se un giocatore dovesse giocare delle carte marcia che gli permetterebbero di sorpassare la safety car o una delle altre autovetture dovrà fermarsi appena prima della safety car o della macchina che voleva sorpassare la stessa cosa vale per le botcar alla fine di ogni turno in cui la safety car è in gioco si sposta avanti di uno il token safety car sull'apposito contaturni alla fine dell'ultimo turno di safety car entrambe le safety car vengono tolte dalla pista e rimesse nell'apposito spazio e la partita può continuare normalmente nel caso in cui un giocatore debba andare ai box per fare pit stop non importa se per incidente se perché sono finite le gomme o perché ha cambiato il tempo o per scelta strategica vera e propria il funzionamento è il seguente si può decidere di fare pit stop in qualunque angolo della pista e quando lo si fa bisogna spostare la propria vettura fuori dal bordo della pista questo perché bisogna considerare il fatto che nonostante il gioco sia formato da due giri di pista la gara invece dura molto di più il susseguirsi delle varie interazioni fra le varie auto quindi è come se fosse suddiviso fra i vari giri che vengono fatti allo stesso modo perciò si può andare ai box da qualunque punto della pista si voglia innanzitutto si riporta sull'uno segnalino che va a indicare la durata delle gomme si sceglie poi la mescola che si desidera a seconda comunque anche del tempo atmosferico se abbiamo diritto a dei token curva o se dobbiamo togliere li aggiorniamo sempre allo stesso modo che abbiamo visto durante la scelta delle gomme inizio partita dopodiché rimane fermo per un round intero quando ha terminato il pit stop all'inizio del round successivo il giocatore tirerà il dado a otto facce con un risultato di 1 i meccanici hanno avuto problemi quindi l'auto rientrerà in pista di due caselle indietro rispetto a dove è uscita con un risultato di 2 invece i meccanici sono stati lenti quindi la macchina rientrerà di una casella indietro da 3 a 6 il pit stop è stato normale quindi la macchina rientra nella casella da cui è uscita con un risultato di 7 i meccanici sono stati veloci quindi l'auto rientra una casella avanti rispetto a dove è uscita e con un risultato di 8 invece la macchina rientrerà due caselle in avanti perché i meccanici sono stati veramente bravi il giocatore può anche spendere un token istinto freno o cambio per annullare il risultato di 1 o 2 farlo diventare un 3 a 6 per quanto invece riguarda le bot car devono fare pit stop solo in caso di cambio meteo le bot car rientrano sempre in pista dalla casella da cui sono uscita la gara termina quando almeno tutte le macchine tranne una hanno effettuato due giri completi di pista ciò significa che se ci sono in gioco sette macchine almeno sei devono aver superato per la seconda volta la bandiera scacchi presente sullo start ovviamente escludendo ovviamente senza contare quando si sorpassa durante la partenza dopo che l'auto in testa ha oltrepassato durante la partenza la bandiera scacchi bisogna far scendere il token giri sulla casella numero 39 significa quindi che siamo nella prima metà della gara quando dopo un giro ciò accade nuovamente si abbassa nuovamente il token giri per indicare che quindi siamo all'ultimo giro della gara a questo punto se il leader della corsa passerà per un'ultima volta sulla bandiera a scacchi il turno termina regolarmente finché tutte le auto non hanno fatto il loro movimento facciamo un piccolo esempio ho già mosso la botcar arancione di 4 ora facciamo finta che il giocatore blu abbia giocato una sesta 1 2 3 4 5 6 e poi la botcar gialla si muove di 5 1 2 3 4 5 e di conseguenza tutti gli altri che non riescono a oltrepassare in questo turno la bandiera a scacchi ora il vincitore della gara è effettivamente quello che ha oltrepassato la bandiera a scacchi e che è arrivato più distante durante il proprio turno in questo caso la macchina del giocatore blu si prendono quindi le macchine che hanno oltrepassato la bandiera a scacchi e le si posiziona sulla tabella posizione classifica in base appunto al loro piazzamento la partita comunque non è terminata perché devono arrivare almeno altre tre macchine verrà però utilizzata la stessa modalità che abbiamo visto ora ora la botcar grigia si muove di 5 dopodiché facciamo finta che il giocatore grigio abbia giocato una sesta e le altre botcar si muovono invece rispettando quanto indicato dal secondo turno della carta botcar ed ecco il risultato in un caso di parità come questo si guarda innanzitutto chi ha giocato la carta marcia col valore più alto in caso di ulteriore parità si controllano i token istinto freno curva e cambio e chi ne ha di più è considerato quello davanti rispetto all'altro in caso di ulteriore parità vince quello che è sulla traiettoria ideale in questo caso quindi vince questa macchina che ha giocato abbiamo detto una settima contro una quinta della botcar ed ecco quindi le posizioni finali delle varie autovetture se durante l'ultimo turno di gioco fossero arrivate le prime sei autovetture la settima non avrebbe continuato a correre sarebbe arrivata ovviamente ultima comunque se invece alcune auto sono arrivate e poi termina un round senza che altre non lo siano le vetture che devono ancora arrivare giocheranno un altro round finché tutte tranne una non hanno oltrepassato la bandiera scacchi dopo aver posizionato tutte le auto sulla tabella si procede col calcolo del punteggio ottenuto in base alla tabella e al piazzamento quindi ogni giocatore ottiene i punti della propria auto principale e della botcar e le somma il giocatore che ha ottenuto quindi più punti è il vincitore ok dovrebbe esserci tutto come avete visto il gioco si prefigge di simulare una gara di formula 1 da la alla z secondo me l'app come qualifica è un'idea geniale so che non mi sbilancio molto spesso nelle mie nei miei video però devo dire che questa volta mi ha proprio colpito perché se c'è una cosa che mi dà fastidio o che mi perlomeno mi annoia nei giochi di corsa e fare le qualifiche perché o tiri un dado o fai casualmente o è una qualifica troppo lunga non mi piace invece in questo modo con un'app inoltre un'app fatta bene nel senso che devi fare una prova di abilità come effettivamente è nella far 1 a 1 è un qualcosa che oltre a essere innovativo è geniale a parte questo mio parere spassionato sull'app non ho potuto provarlo causa zone rosse zone gialle eccetera eccetera coprifuoco per cui non so bene come può girare effettivamente il gioco se non per quanto appunto potuto leggere dalle regole le regole che sono parecchie che però non sono difficili da capire soprattutto se uno è appassionato di formula 1 il gioco uscirà su tambù fra qualche mese se non sbaglio fra febbraio e marzo e se siete interessati vi lascio comunque in descrizione il link alla pagina facebook di formula board game per approfondire eventualmente per fare domande anche all'autore del gioco come sempre come sempre vi ringrazio per avermi visto fino a qui se avete dubbi domande o commenti potete scrivermi vedrò di rispondere quanto prima ora vi saluto e vi auguro un buon gioco ciao ciao